Non a caso le ho fatto la domanda, proprio perché immaginavo la risposta, immaginavo quello che lei può aver vissuto negli anni e credo, nel momento che lei si ripropone ricordo, tutte le volte che lo rivive. Questo le fa onore come persona in assoluto. Le ho fatte perché mi aspettavo esattamente questa risposta, semplicemente questa. Che bella persona. Lo è. Vero. Infatti, quando poi mia nipote me l'ha segnalato, che bello quando si segnalano le persone così, ha detto guarda, è una persona che non dorme mai, dormirà 4 ore, 5 ore a notte, poi tutto il resto è dedicato praticamente. Io più o meno dormo un'ora prima di lei e soffro da morire questa mancanza di sonno. Alle 5.30 lui si alza, quindi potrebbe venire a fare compagnia col prossimo programma che farai. Hai capito, assolutamente. Nei nuovi orari. Assolutamente. Poi comunque alzarsi presto è bello. No, certo. E andare tardi a dormire la sera che per me è stancante. Io a una certa ora crollo, poi devo rimanere per forza in piedi, però a una certa ora crollo. Comunque non è detto che noi non si abbia l'occasione, anzi sicuramente avremo l'occasione di poter di nuovo interpellare il dottor Italo Governatori in virtù di quello che abbiamo appena tratteggiato questa mattina, vale a dire il bene, il bene espresso in tutte le sue manifestazioni. Stamattina l'abbiamo brevemente tratteggiato anche attraverso un uomo che nella propria vita ha incontrato il male, quello più profondo, vale a dire quello che arriva all'estremo che il dottor Governatori ci ha appena raccontato. Non si è sottratto, poteva farne tranquillamente a meno, ma la risposta che lui mi ha data è quella che io volevo e mi aspettavo perché un uomo di questa spiritualità non ha difficoltà a parlare anche di ciò che lui ci ha raccontato. Quelli che non lo fanno credo che siano tutta un'altra storia, quelli che si sottraggono sono tutta un'altra storia. Quindi avremo modo di, sempre che lei sarà disponibile, dottor Governatori, di parlare di questa bellissima iniziativa del Lumbe Lumbe Onlus. Io vorrei, prima di lasciare i nostri telespettatori, vorrei che tu dicessi il sito web per i radioscoltatori che volessero in qualche modo mettersi in contatto con voi. www.lumbelumbe.org All'interno scopriranno anche il significato di Lumbe Lumbe. Gio, io devo salutare te, ti devo salutare, ti devo ringraziare, è stata un'esperienza che mi ha arricchito per quanto riguarda la tua persona, la tua grande umanità e soprattutto gli ospiti che tu sei andata via via proponendo e portando all'interno di Radio IS, nei quali io ho ritrovato sempre un motivo di grandissimo interesse, che poi è quello che non prescinde dalla tua persona e dal tuo modo di vivere, la grande umanità che ti caratterizza. Poi c'è la cifra artistica che abbiamo esplorato a nostra volta con gli attori, con i cantanti che hai portato e quindi mi hai arricchito. Grazie, chiaramente anch'io ho beneficiato degli ospiti come te che per la prima volta poi sono andati in una radio e di questo sono proprio felice e orgogliosa perché sono riuscita a portare persone, a parte gli attori, quelli che sono abituati, a quali fa piacere andare a promozionare qualcosa, ma veramente la gioia di vedere persone che non sono mai andate, soprattutto persone come lui, che sono un pochino dietro le quinte, che vogliono fare ma non vogliono dire, però anche L'Umba L'Umba ha bisogno, come tante associazioni, di avere un po' di pubblicità altrimenti non si sa. Io invece per tutti gli amici vi aspetto in giro con Canta Napoli e spero di tornare in qualche modo a settembre e magari perché no, proprio con Marcello Micci che insomma mi ha fatto da maestro in questa storia e vedrai che sai che succede se ho ancora un minuto? Io ho convissuto un periodo con una persona molti anni fa, ero piccola, lui molto più grande di me e c'erano tante cose di lui che mi davano fastidio, sai perché poi la quotidianità, le abitudini, lui poi a volte cucinava, mi dà pure fastidio a volte l'odore della cucina. Quando ci siamo lasciati, dopo qualche mese, ma nemmeno forse dopo qualche settimana, ho scoperto, un giorno mi sono scoperta a fare una cosa che faceva lui. Ho detto ma non è possibile, ma come io questa cosa la odiavo. Praticamente ho fatto delle cose che faceva lui e nel tempo ho capito che poi le persone, quando non ce l'hai più, tra virgolette le apprezzi ancora di più. Quindi magari che ne sai, torno a settembre e faccio delle cose che fai tu. Alla grande, alla grande, e viva. Buon proseguimento di vita a tutti. E viva, e viva. Grazie a voi, grazie.